L'infosfera riduce le distanze spazio-temporali, contraendo e espandendo i concetti di spazio-tempo, quindi azzerando una distanza tra una modernità metropolitana dove avvengono i fatti del futuro e una ruralità arretrata, ancorata eternamente al passato. Le scelte di vita di chi decide oggi di ritornare alla ruralità e di farlo in maniera visibile e politica attraverso le comunicazioni da, per e sull'infosfera, quindi attraverso le piattaforme social, proietta prepotentemente la ruralità all'interno della dialettica anche sul futuro e su nuovi modelli di sviluppo, introiettando attraverso le narrazioni di scelte di vita diverse, in maniera autentica, discorsi su siti di vita ecologici e nuove possibilità. Per questo pensiamo a un concetto interessante, che un concetto interessante oggi sia non solo quello di smart city, ma anche quello di smart rurality. Grazie a tutti.